Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del Tg di TvCity, contagi sempre in aumento nei comuni del Vesuviano, guarito il sindaco della città di Portici Enzo Cuomo che sul suo profilo Facebook dice ho vissuto momenti e giorni difficili. Ieri sera flash mob, attore del greco, cittadini e rappresentanti delle categorie più colpite dal nuovo DPCM si sono ritrovati a Piazza Santa Croce per manifestare pacificamente il loro dissenso. Il Covid si può affrontare senza morire di fame, dicono. Tavolo ieri alla stecca con i rappresentanti delle categorie produttive del territorio per mettere in atto idee e progetti finalizzati a fronteggiare la crisi economica. Spazio poi alla cronaca con l'operazione dei carabinieri, sette persone arrestate per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. I finanzieri invece all'aeroporto di Capodichino hanno arrestato un cittadino extracomunitario che aveva nell'addome quasi un chilo di eroina. In chiusura lo sport con la Turris che pareggia ad Avellino nella partita di recupero. Domenica i corallini dovranno vedersela con la casertana. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Continua a salire, inesorabilmente, il numero dei casi positivi nella provincia di Napoli, a prensione delle autorità sanitarie vista la situazione epidemiologica che si è aggravata nelle ultime settimane. A Torre del Greco i nuovi positivi sono 29, tutti in forma sintomatica, lo fa sapere il sindaco Giovanni Palomba nel consueto aggiornamento quotidiano del centro operativo comunale. Registrate anche 5 nuove guarigioni, mentre un soggetto ospedalizzato è passato al regime di isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi nella città corallina sono in totale 270. 28 nuovi positivi nelle ultime 48 ore anche nella città di Torre Annunziata, che fanno salire a 115 il totale degli attualmente positivi, di cui 107 in isolamento domiciliare ed 8 ospedalizzati. L'ultimo aggiornamento della cittadina oplontina segnala anche 9-14 guarigioni. Continua l'incremento dei casi nel comune di Bosco Reale, dove sono 12 i nuovi positivi, di cui uno ospedalizzato in grave condizioni. Tamponi molecolari anche per i dipendenti comunali, così come annunciato dal primo cittadino Antonio Diplomatico, dopo alcuni casi di positività. Guarito il sindaco di Portici Enzo Cuomo, dopo l'annuncio della sua positività di qualche giorno fa. Ho vissuto momenti e giorni difficili, scrive in un post su Facebook. Adesso, aggiunge Cuomo, dobbiamo rafforzare le nostre attenzioni alle attività economiche in sofferenza, sollecitando il governo a velocizzare i ristori decretati. Numeri preoccupanti anche nel comune di San Giorgio a Cremano, dove i casi positivi in una settimana sono 85, con il totale che è salito a 335. Purtroppo aggiorniamo il numero dei deceduti con due casi. Un numero, dichiara il sindaco Giorgio Zinno, che non avremmo mai voluto aggiornare. Resta invariato per il momento il bilancio nelle città di Castellamare di Stabbia ed Ercolano, dove sono stati accertati rispettivamente 390 e 302 tuttora positivi. Musica, balli e striscioni in piazza Santa Croce. Ieri sera, a partire dalle 18, i cittadini di Torre del Greco si sono riuniti di fronte alla Basilica per protestare pacificamente contro le chiusure imposte dal DPCM. In piazza, tantissimi giovani e rappresentanti delle categorie più colpite dall'enorme anticontagio. Non siamo negazionisti, sostengono a più riprese i partecipanti. Il virus c'è ed è pericoloso. Vogliamo che venga garantito sia il diritto alla salute, sia il diritto al lavoro. Infatti, più volte gli organizzatori hanno ricordato ai partecipanti di osservare le distanze di sicurezza e indossare le mascherine. Quella di stasera è una piazza pacifica, sicuramente. È una piazza che è stata convocata per manifestare un disagio sociale della città, delle attività lavorative, delle categorie in difficoltà. Una situazione in cui ci hanno messo perché gli aiuti, il sostegno promesso tarda ad arrivare. C'è chi ancora aspetta quello del primo lockdown. In tutto questo però non dobbiamo dimenticare chi un contratto di lavoro non ce l'ha, chi magari è un lavoratore in nero e chi quindi ancora di più subisce le conseguenze della crisi economica che sta accompagnando questa crisi sanitaria, questa emergenza sanitaria. Durante il lockdown Attore del Greco è stata attiva una rete tra commercianti, associazioni e cittadinanza che ha dato aiuto e sostegno alle famiglie che non riuscivano ad andare avanti e che si trovavano nella condizione di non riuscire a mettere un piatto di pasta a tavola. Nessuno nega che c'è un'emergenza sanitaria in atto ma certamente non si può non tener conto di tutte le conseguenze economiche che stiamo vivendo e in più dobbiamo anche mettere le istituzioni, la regione di fronte alle proprie responsabilità. Se stiamo a casa, se chiudiamo le attività c'è bisogno che il sostegno al reddito delle famiglie, delle categorie e anche di chi non ha un contratto di lavoro, dei desoccupati, arrivi e arrivi prontamente. Sulle scale della chiesa molti rappresentanti di categoria hanno parlato del disastro economico che stanno vivendo. Gestori di palestre, titolari di locali, musicisti e artisti di ogni genere. Non sono mancate musiche popolari e balli per ricordare l'importanza di tenere viva la nostra cultura. Un'ora d'aria, come l'hanno definita in molti, contro coprifuoco e chiusure in una piazza Santa Croce blindata. Camionette della polizia, volanti ed agenti hanno vigilato che la protesta non degenerasse in violenza. Contro la crisi economica, un coordinamento tra le attività produttive di Torre del Greco. Il gruppo si è riunito presso l'incubatore di imprese Stecca per dar concretezza e rappresentatività a progettualità e proposte condivise tra le forze economiche. Punto di partenza sono i dati allarmanti sulle conseguenze dell'emergenza sanitaria, degli ultimi dispositivi normativi e la comunicazione mediatica sull'epidemia. Il gruppo sta elaborando un documento condiviso che sarà indirizzato, per le relative competenze, ai diversi interlocutori istituzionali. Si è costituito il coordinamento delle attività produttive di Torre del Greco, ma con l'idea di ampliarlo anche agli altri comuni della costa vesuviana. Per cui oggi ci siamo riuniti in maniera spontanea con i rappresentanti delle imprese del mondo artigianale, commercio, turismo, servizi e cultura. E quindi in particolare le associazioni Ascom, Consorzio Costa del Vesuvio, Asso Coral, Confimprese Italia Provincia di Napoli, Confesercenti, Associazione Sviluppo Area Porto e con la partecipazione anche dell'associazione fondiaria Oasi Vesuvio, con l'idea di elaborare un documento condiviso che sarà indirizzato ai vari livelli istituzionali con i quali cercheremo di costruire un'interlocuzione finalizzata alla costruzione di supporti e sostegni alle imprese che sono fortemente in sofferenza. L'idea però è soprattutto quella di continuare a vederci regolarmente, come abbiamo già fatto in passato, ma questa volta con un impegno rinnovato e condiviso per ragionare su delle progettualità concrete per lo sviluppo del nostro territorio. Scacco al clan De Luca Bossa, il comando provinciale Carabinieri di Napoli e la squadra mobile della Questura di Napoli hanno eseguito due fermi disposti dalla direzione distrettuale antimafia nei confronti di sette persone legate al clan camorristico De Luca Bossa. Tutti sono indiziati del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso a fine di agevolare l'organizzazione di appartenenza. I due provvedimenti riguardano rispettivamente un'estorsione commessa nell'ambito della gestione delle abitazioni di edilizia popolare e un tentativo di estorsione continuata nei confronti di un imprenditore. In particolare il primo decreto di fermo eseguito dalla squadra mobile di Napoli è stato emesso nei confronti di tre indagati che hanno richiesto ad una donna la somma di denaro di 5.000 euro, quale prezzo per conservare il possesso dell'alloggio popolare nei quartieri Ponticelli, in cui viveva con il figlio minore. A seguito delle minacce ricevute non disponendo della somma di denaro la vittima è stata costretta ad allontanarsi per evitare ulteriori ritorsioni. Il secondo provvedimento eseguito dalla compagnia dei carabinieri di Tore del Greco e dalla tenenza di Cercola è stato emesso nei confronti di quattro indagati e riguarda un tentativo di estorsione continuato commesso nei confronti di un imprenditore che dopo aver subito gravi danni alla propria concessionaria di autovetture a caso dell'esplosione di un ordigno artigianale ha ricevuto una richiesta etorsiva di 50.000 euro. Un chilo di eroina nell'addome di un passeggero a Capodichino. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, unitamente i finanziari in servizio presso l'aeroporto di Capodichino, hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario di origine gambiana che trasportava quasi un chilo di eroina con la tecnica del body pickers, ossia occultata in ovuli. Il 22enne, giunto a Napoli con un volo proveniente da Parigi, stava per lasciare l'aeroporto quando è stato fermato e sottoposto a controllo prima di allontanarsi dalla sala arrivi. In particolare, gli ufficiali addetti ai controlli, non convinti delle spiegazioni ricevute ed insospettiti da altri segnali di rischio, hanno accompagnato il viaggiatore all'ospedale, dove un esame radiografico ha evidenziato la presenza nell'addome di ben 80 ovuli. I successivi accertamenti, eseguiti sul contenuto degli involucri, hanno confermato che si trattava di eroina. Il responsabile è stato tratto in arresto e condotto presso il carcere di Poggio Reale. Rocambolesco pareggio nel recupero disputato al partenero di Avellino tra i padroni di casa e la Turris. La partita, valevole per la prima giornata di campionato, fu sospesa al nono minuto dopo che un nubifragio si era battuto sul capologo Irpino, costringendo l'arbitro a far rientrare le squadre negli spogliatori. L'Avellino parte meglio e trova il vantaggio con un gol di Santaniello, abile a ribadire in rete il pallone che era finito sul palo dopo il tiro di D'Angelo. I Coralini si riversano in avanti alla ricerca del pari, ma le occasioni non vengono concretizzate. Nella ripresa del primo colpo di scena, dopo pochi minuti, con gli Irpini costretti a sostituire l'infortunato portiere forte, ma intorno alla mezz'ora Tito trova sul suo tiro una sfortunata deviazione della difesa e realizza il raddoppio che sembra chiudere in favore dell'Avellino. Partita finita, ma che? Subito dopo il gol, i biancoverdi restano in dieci per l'espulsione di Maniero e la Turis immediatamente ne approfitta, accorciando le distanze con un perentorio colpo di testa di Persano e in pieno recupero arriva addirittura il pareggio con Romano che infila in rete dopo l'uscita a voto del portiere. Un pareggio che riscatta la brutta partita precedente e che permette ai Coralini di restare nelle zone nobili della classifica. Prossimo impegno in trasferta contro la Casertana. Grazie a tutti per la cortesia e attenzione. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete scriverci all'email redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.